Si conclude l'Assemblea Internazionale di Cittaslo, uno splendido lavoro da parte di tutti i delegati. Abbiamo rimesso al centro il concetto di sviluppo secondo il modello di Cittaslo, cercando di trovare la giusta soluzione tra grandi metropoli e piccole comunità che stanno scomparendo, i borghi rurali stanno scomparendo, le grandi città invece tendono a diventare invivibili. Dobbiamo trovare una soluzione anche a questo problema secondo la visione delle Cittaslo. È un importante lavoro che ha visto portare avanti con un documento di programmazione anche il lavoro sul patto dei sindaci per il benessere equo e sostenibile. insomma tante cose importanti che dalla Francia ci accompagneranno per il nuovo anno nel quale proveremo a definire completamente il progetto del patto dei sindaci per lo sviluppo equo e sostenibile con l'Unione Europea. Abbiamo anche presentato finalmente il nostro inno, Cittaslo International ha il suo inno e tante tante altre cose che le varie reti locali stanno continuando a sviluppare. Grazie!